Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Si fa tanto parlare dell'abbigliamento da casa, soprattutto dovuto al terribile periodo in cui si è rimasti chiusi a casa e di necessità, ma ci sono degli studi che dicono che è meglio cambiarsi anche stando a casa perché aumenta produttività e fa bene allo spirito e io sempre dai miei canali social ho attaccato tutti quegli abbigliamenti da casa che non sono belli e non donano, non ti fanno sentire bene. E proprio oggi vi voglio presentare una start-up di questi due bravissimi ragazzi, due giovani imprenditori laureati in economia che dopo tanto studiare in giro per il mondo sono tornati in Italia e hanno creato una linea di abbigliamento per la casa in un settore molto particolare. Il brand si chiama UMI, loro sono Alessandro e Stefano. Allora Stefano, come mai questa scelta imprenditoriale? Allora, questa scelta ovviamente come hai anticipato è nata dal fatto che ci siamo trovati da un giorno all'altro a dover passare giorni, settimane a casa senza poter uscire e quindi dover cercare in qualche modo di dilettarsi o comunque sia di rendere questo stare a casa un pochino più piacevole e quindi io ero appena tornato dalla Francia dove stavo lavorando, Alessandro era tornato dal master, ci siamo trovati a dover stare a casa e abbiamo detto cerchiamo di rendere appunto questo stare a casa un pochino più piacevole per la gente e cerchiamo di sfruttare questa nuova opportunità che il mercato sta mostrando e quindi abbiamo pensato di rendere appunto questo stare a casa più piacevole attraverso un brand, una linea di abbigliamento che fosse predisposta esclusivamente appunto per stare a casa in maniera comoda ma soprattutto stilosa, che faccia stare bene con se stessi anche quando nessuno ci guarda appunto e quindi ci permette di esprimere la nostra personalità, il nostro gusto semplicemente per noi stessi nella nostra intimità o comunque sia con le persone che più ci sono vicine. Siamo italiani noi, no? D'altronde dobbiamo essere sempre italiani. Esattamente e quindi abbiamo appunto analizzato il mercato, abbiamo cercato di capire quale fosse il prodotto che più fosse denigrato anche dentro casa e abbiamo visto che sostanzialmente la pantofola è uno probabilmente dei prodotti meno appealing come direbbero oltre manica e quindi abbiamo detto cerchiamo di rendere questo prodotto un prodotto al pari di tutte le altre calzature da esterno. Guardate che meraviglia, vi faccio vedere questa meraviglia di lusso che hanno creato questi due ragazzi, è veramente, questa è la versione estiva, poi vi racconteremo esistono quella invernale e quella estiva, guardate che bello, che tessuti e che linea ha questa pantofola, io non ho reso come una slipper sembra perché veramente viene voglia di usarla per uscire. Esattamente e appunto vabbè in questo caso abbiamo utilizzato materiali abbastanza appunto ricercati tipici della, o meglio non tipici della pantofola, cioè qualcuno viene in mente appunto la pantofola, si pensa la pantofola della nonna, un pochino appunto anziana, un pochino poco diciamo trendy. Sì, oppure quello che te la tirano in testa, no? Ti seguono con la pancia della ciabatta. Esattamente, quindi abbiamo cercato di dare un pochino di una rispettabilità a questo prodotto utilizzando dei materiali tipici della, di capi d'abbigliamento di lusso appunto utilizzati nella pantofola, quindi nella versione invernale, nella linea invernale abbiamo utilizzato il velluto, il raso, mentre invece per quella estiva abbiamo utilizzato ovviamente il cotone, ma con delle trame molto accattivanti e poi il muare. Senta, la siete amarezzata, amarezzata mi pare che si chiami. Senti, invece Alessandro, allora raccontami come dall'idea siete arrivati poi alla pratica, perché creare una scarpa così, cioè uno sì ho l'idea, ma poi alla fine come, come riesci a realizzare un prodotto così ben fatto? Allora per noi è stata veramente una sfida, anche perché non abbiamo all'interno della nostra famiglia nessuno che è con questo, con questo background, quindi per noi è veramente stato scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo e siamo, abbiamo iniziato banalmente dal designer, perché appunto la nostra sfida era elevare questa pantofola in una scarpa per la casa e di conseguenza aveva bisogno di un designer che riuscisse effettivamente a realizzare questo compito. E quindi abbiamo fatto, invece, su LinkedIn abbiamo cercato designer per scarpe e abbiamo trovato, dopo abbiamo fatto una serie, una decina di colloqui, questa ragazza molto forte, Annie, che ha collaborato anche con Versace in precedenza, insomma con brand di lusso molto importanti, che ha creduto nella sfida e siamo iniziali. Quindi abbiamo, quindi dal punto di vista del designer, abbiamo coperto quell'area. Dopodiché, dal punto di vista della produzione, dove andiamo? E abbiamo fatto anche qua una ricerca di mercato, abbiamo scoperto che nella provincia di Varese più o meno il 25% delle pantofole, in Italia viene fatto proprio in quel distretto. È un distretto, un distretto proprio dedicato alla pantofola, no? Esatto, c'è un piccolo distretto, a tempo, negli anni 80-90 contava fino a più di 100 imprese, purtroppo con la concorrenza della Cina si è un po' ristretto, però ancora, diciamo, le imprese più virtuose, possiamo dire così, sono rimaste e ne abbiamo visitate un paio e alla fine abbiamo avuto la fortuna di incontrare questo artigiano Gianfranco, che ci fa non solo la produzione, ma anche si occupa addirittura della logistica, diciamo... che non è poco, che non è poco, assolutamente, poi all'inizio ci aiuta molto e diciamo si va al di là del concetto del fornitore, diventano veramente tutte queste figure, appunto la designer, colui che ce la produce, diventano dei partner con cui stabilire un rapporto di lungo termine che, diciamo, favorisce tutti. Assolutamente sì, è una cosa bellissima, perché se tutti noi ci mettessimo a fare questo, l'Italia avrebbe, si sorneverebbe, perché noi abbiamo la fortuna, no, di avere delle manifatture così incredibili, quindi se tanti ragazzi come voi si mettessero a creare delle nuove start-up, proprio innovando magari un campo come questo qui, che era lasciato nell'oblio, perché, come avete visto voi, c'era questo buco tra la scarpa veramente brutta e quella a che costa prezzi esorbitanti. È una bellissima cosa quella che voi avete fatto. Grazie mille e credo che appunto ci siano i margini appunto per anche molti altri capi d'abbigliamento. Ecco, obiettivi. Cosa volete voi, oltre la pantofola? Vedremo appunto quale sarà il percorso da percorrere, perché ovviamente è tutto in itinere e noi ci piace appunto ragionare step by step e non saltare le tappe, perché ovviamente questo è, credo, il miglior modo per tenere i piedi per terra, soprattutto le pantofole per terra e procedere. Però appunto la nostra idea è quella di creare un brand proprio di homeware a tutto tondo, quindi partendo dalle pantofole che mostravano appunto delle necessità, il mercato era evidentemente necessitava una nuova offerta, però appunto puntiamo a creare un'intera linea di avviamento che possa soddisfare le necessità delle signore, delle ragazze a casa, poi magari anche dei ragazzi, vedremo. La linea uomo ci sarà, ci sarà, sarà una sorpresa, vediamo, aspettiamo. Ci piacerebbe, vediamo appunto cosa ci aspetterà nella collezione di... Senti, un'ultima domanda, il nome del posto dove si creano le... io non riesco a dirlo ancora, perché non è il calzaturificio, assolutamente guai a chiamarli calzaturifici, vero? Come si chiama dove si fanno le pantofole? Allora, anch'io onestamente dopo mesi e mesi... allora, la radice è quella della pantofola, ma lo facciamo assieme, perché... allora, la radice è la pantofola, quindi pantofola... Guarda, Alessandra, non sei solo! Dillo, vai Stefano! Pantafolificio! Oh, ce l'ho fatta! È un nome impronunciabile, ma perché bisogna stare attenti, perché gli addetti al settore ci tengono molto a distinguere i due tipi di... perché sono due lavorazioni estremamente differenti, no, ovviamente? Assolutamente, anche in termini di macchine... Diciamo che la pantofola è ancora una lavorazione molto, molto artigianale, dall'inizio alla fine, mentre ormai, appunto, per la calzatura, diciamo, la tecnologia viene molto in aiuto, anche magari per la manifattura italiana, mentre invece il processo produttivo della pantofola è veramente ancora 100% artigianale. Ok, sentite, grazie mille di essere qua con noi e per tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutte le informazioni nell'articolo che c'è sotto, per contattare il brand HOMIE, è giusta la pronuncia? HOMIE? HOMIE! HOMIE! HOMIE, ecco, il brand HOMIE, vedrete tutti i modelli che sono a disposizione, si possono acquistare online, e vi aspetto qui, quando inaugurerete un nuovo modello, un nuovo prodotto da poter mostrare a tutti quanti. Assolutamente, grazie mille, Laura, per averci dato, appunto, un piccolo spazio nella tua bellissima vita. Grazie ancora, appunto, per questa vita. In bocca al lupo a tutti, allora. Grazie! Il lupo! A presto!